Benvenuti a Gossip è di più. Restate sintonizzati e non dimenticate di iscrivervi al canale. Inizia lo show. Dramma, insulti e gelosie in prima fila. Bentornati fan del gossip e di tutto ciò che dà chiacchiera, siete arrivati nel posto giusto. Nel mondo del gossip, Mirko Brunetti e Perla Batiero sono di nuovo sotto i riflettori. Chi di voi non ha seguito le loro avventure a Uomini e Donne e Temptation Island? Ecco la storia esplosiva che tutti attendevano. Mirko, Perla. Che succede tra questi due? Dopo quel confronto atomico a Uomini e Donne, tutto sembrava calmo. Ma, solo qualche giorno fa, Perla, con l'appoggio del suo nuovo amore, Igor, ha definito Mirko pessimo e vergognoso. Parole pesanti, vero? Sì, ma c'è di più. Perla afferma che Mirko, appena tornato da Temptation Island, ha corso dalla sua nuova fiamma, Greta. Ha. La gelosia. Ma Perla, davvero? Ebbene, Mirko non è rimasto in silenzio, soprattutto su Instagram. Insulti a go-go. Offese e minacce? Proprio così. Durante una diretta su Instagram, Mirko ha fatto rivelazioni shocked. Perla e un membro della sua famiglia l'avrebbero minacciato. Greta, la nuova ragazza di Mirko Brunetti, pare che abbia ricevuto una valanga di insulti da Perla. Parole pungenti, frecciatine su TikTok e accuse fatte in giro. E non finisce qui. Mirko ha sottolineato. Indignato. Perla mi ha minacciato di non andare a Roma e un parente suo mi ha detto che mi avrebbe fatto del male a Rieti. Ma in tutto questo marasma di insulti e storie su Instagram, Mirko ha voluto difendere la sua Greta. Sì, perché secondo lui, Greta è stata l'unica a mantenere un profilo basso tra gli insulti, nonostante le continue provocazioni di Perla. Non credete al vittimismo di Perla post-programma, l'ha usato solo per uscirne il più pulita possibile. I fatti parlano, la cronologia parla. Tutto è esploso durante la puntata di Uomini e Donne. Mirko Brunetti e Perla Batiero si sono ritrovati faccia a faccia, mettendo tutto in piazza. Allora, cari amanti del gossip, siete pronti per il prossimo episodio di questo dramma senza fine? Mirko Brunetti, Perla Batiero, insulti, uomini e donne, Temptation Island Instagram. Continuate a seguirci e non perdete un beat. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima! Ciao!